Interpellanze, mozioni, la nuova disciplina per la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi. In tutto sono 22 gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale, convocato da Vincenzo Niro per dopodomani alle 11. Al momento, nell'agenda dei lavori, manca la proposta di legge Frattura Niro per regolamentare il famigerato articolo 7 della legge numero 7 del 2002. Il disegno di legge era stato licenziato mercoledì scorso dalla prima commissione di Palazzo Moffa con una maggioranza trasversale. Ma quasi certamente l'argomento verrà iscritto in aula e discusso nella stessa seduta anche perché, dopo l'incursione delle Iene, il governatore Paolo Frattura si era impegnato al microfono di Paolo Calabresi. L'esito della partita però non è scontato poiché in aula si prevedono due aggregazioni trasversali. Da una parte i pentastellati Antonio Federico e Patrizia Manzo, Conunzia Lattanzio, Udeur, Nicola Cavaliere, PDL e Nicola Romagnolo Progetto Molise, che insisteranno per l'abrogazione dell'articolo 7. Dall'altra la maggioranza di centro-sinistra che dovrebbe sostenere la proposta Frattura Niro, ma secondo indiscrezioni ci sarebbero alcuni consiglieri regionali, tra i quali Carmelo Perpiglia, Nico Ioffredi, Salvatore Ciocca, Vincenzo Cotugno e gli assessori Michele Petraroia e Vittorino Facciolla, che da tempo farebbero pressione per eliminare l'articolo 7. Tra l'altro, da quanto è dato sapere, la seduta di martedì potrebbe essere presidiata da una quarantina di indignati, i quali continuano a raccogliere le firme su una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede l'immezzamento degli stipendi dei consiglieri regionali e ovviamente l'abrogazione dell'indignità per i portaborse. Grazie.